rosalinda cannavo ha svelato di avere un problema quando deve lavorare non vuole affetti al suo fianco perché si inibisce così come racconta in una storia instagram di andrea zenga l'attrice e conduttrice di casa chi è intenta a truccarsi e andrea entra in bagno per annunciare gli appuntamenti di oggi con la sua dolce metà un siparietto che si conclude con rosalinda che caccia di casa il suo compagno per poter liberamente registrare casa chi senza averlo in casa tra i due ragazzi c'è una gran bella sintonia stanno insieme ormai da mesi da quando cioè si sono scambiati il primo bacio davanti alle telecamere del grande fratello vip era il 15 febbraio dello scorso anno giorno dopo san valentino la festa degli innamorati piano piano hanno avuto modo di conoscersi nella casa di cine città per poi iniziare una relazione che è proseguita anche lontano dalle telecamere del reality di canale 5 condotto da alfonso signorini